Il Paradisi delle Signore Nove, Alfredo sfila con Irene? Lui imbarazzato. Anticipazioni. L'estate è passata, ma sembrano anni, o addirittura ere. Infatti per molto tempo il buon Vittorio, Alessandro Tersini, è stato a capo dell'Edis Paradise ed è scappato con Matilde, Chiara Baschetti. Ha realizzato il sogno d'amore lontano da Milano e Tancredi, Flavio Parenti. Ma cosa succederà dopo? Il grande magazzino di moda continua a funzionare nonostante l'assenza di un direttore. Vede che i primi mesi non sono stati facili per Roberto Landi, Filippo Scaraffia, e Marcello Barbieri, Pietro Mazzotti. Dopo l'addio di Maria, Chiara Russo, la nuova collezione viene affidata a Gian Lorenzo Bottelli, Luca Ferrante. Sebbene sia uno stilista di talento, non ha mai disegnato una collezione femminile prima. Quanto è complesso per un nuovo designer lavorare con il crepe di seta e il pizzo, e quanto può contribuire? Una cosa è certa, si tratta di una sua vecchia conoscenza. Lui, infatti, i nuovi designer della Galleria Milano Moda, ora guidati da Marta, avranno una storia in comune. Al Paradiso, Roberto e Marcello svilupperanno una strategia per presentare due collezioni, una per uomo e una per donna. L'idea è di far sfilare i tuoi dipendenti in coppia. Ma i due nuovi manager sono davvero convinti che tutto sarà facile come immaginano? Ovviamente no. Il gioco della coppia inizia con la presentazione della nuova collezione Paradiso. In particolare, Alfredo, Gabriele Ananni, si ritrova a dover sfilare insieme a Irene, Francesca del Fara. E dato che recentemente l'ha lasciata, mostrerà imbarazzo. Barbieri è consapevole che c'è un clima negativo riguardo all'abbinamento della sfilata e chiede a Botteri di condividere la responsabilità di risolvere la questione. Allora cosa accadrà a questa prima sfilata tutta maschile? Lo scopriremo nei prossimi giorni.